Sette anni fa, quando è nata a Zoe, avevamo una lunga strada davanti, ma non ci importava. Ora possiamo percorrerla senza guardarci indietro. Godere dei paesaggi incontaminati, ascoltare la forza del silenzio, sentire la poesia suggestiva delle stagioni, immergerci nei colori del cielo e delle nuvole, vivere e volare con la nostra immaginazione. 395 km di autonomia per fare il giro di tutte le nostre emozioni. Viaggiare per viaggiare, scoprire, camminare veloce alla conquista del mondo con un motore potenziato di 100 kW per salire e scendere tutte le colline e montagne che troviamo sul nostro cammino. Rilassarci con le luci della città all'orizzonte, guidando senza più freni, in perfetta armonia con la nuova modalità B-Mod, usando un solo pedale per vivere il traffico con più serenità. Ma il viaggio è curiosità e non finisce mai. Basta il tempo di un caffè per ricaricare la nostra Zoe in corrente continua a 50 kW e ripartire alla scoperta di nuovi orizzonti. Senza più pensieri possiamo finalmente vagare e perderci nella natura guidati dal nuovissimo sistema multimediale Easy Link con schermo tattile da 9,3 pollici per allargare la nostra visione del mondo e rilassarci in un touch. Il viaggio non è ancora finito. L'app My Renault permette di programmare nuovi itinerari in anticipo, weekend e gite fuori città come se fosse il nostro personal coach. Nuova Renault Zoe, emozioni on the road.